L'ex presidente della regione Rosario Crocette è stato rinviato a giudizio dal gruppo di Caltanissetta Emanuela Carabotta insieme ad altre 12 persone tra cui esponenti politici, rappresentanti delle forze dell'ordine e imprenditori coinvolti nell'ambito della cosiddetta inchiesta Montante Bis. La prima udienza si terrà il 2 maggio alle 10.30 nell'aula bunker del carcere ma la spina di Caltanissetta rinvio a giudizio anche per l'ex presidente degli industriali siciliani Antonello Montante. Le assessore regionali Linda Vancheri e Mariella Lobello, l'ex commissario dell'IRSAP Maria Grazia Brandara, gli imprenditori Giuseppe Catanzaro, Rosario Malucar, Mero Turco il vicequestore Vincenzo Savastano, i dirigenti della DIA Gaetano Scilia, Arturo De Felice e poi ancora Giuseppe D'Agata e l'ex capo della security di Confindustria e Dego di Simone Perricone. Per gli inquirenti Antonello Montante, già sotto processo per corruzione, sempre a Caltanissetta, avrebbe gestito un giro di corruzione e avrebbe manovrato l'ex governatore Crocetta, i due assessori, burocrati e investigatori di alto profilo. L'ex numero uno degli industriali siciliani avrebbe organizzato, secondo IPM, Claudia Pasciuti e Davide Spina, un'associazione a delinquere insieme ad altre persone già coinvolte nel processo di primo grado. Intanto l'ex presidente della regione, Rosario Crocetta, alla notizia del rinvio a giudizio ha detto sono molto sereno e fiducioso nella giustizia, ho la coscienza a posto, anche perché nulla di ciò che mi viene contestato è vero, non c'è nessun elemento, dice Crocetta, che possa far pensare che le accuse siano vere.